Il 4 ottobre prende il via la seconda edizione di una domenica fuori porta, a sette domeniche un sabato d'eccellenza, un padrino stellato e tanto altro ancora, in una miscela di ingredienti che promettono sorprese e allegria lungo un viaggio di otto mesi che condurrà gli appassionati fuori portisti alla scoperta del piacere, ideatori Alessia Di Giovacchino e Marco Signori. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo riscontrato un grande interesse intorno a quello che abbiamo scelto di fare, che può sembrare semplice ma ovviamente invece tiene dietro un lavoro molto importante. La cosa che ci ha dato più soddisfazione è avere come padrino Nicoromito, che sarà il premio del megacontest finale perché ovviamente cerchiamo di coinvolgere i nostri fuori portisti attraverso azioni social, soprattutto sulla nostra fanpage. Il sostegno della fondazione Carispac, che per noi ovviamente è importantissimo, e come media partnership Radio L'Aquila 1. Tante aziende coinvolte, visite culturali e contest fotografici su Facebook che l'anno scorso hanno riscosso tanto successo. Il vincitore del megacontest quest'anno avrà come premio una cena gourmet a casa donna con lo chef stellato Nicoromito. Si snoderà ovviamente come al solito per tutto l'Abruzzo e si snoderà quest'anno anche oltre l'Abruzzo, in particolare in Umbria. L'anno scorso eravamo stati in un'azienda del Lazio, quest'anno andiamo ad Orvieto, quindi veramente è la meraviglia, è una città bellissima che visiteremo, pranzeremo al centro di Orvieto e visiteremo l'azienda Palazzone, che si trova lì poco distante dal centro. Poi come al solito dal 4 ottobre, domenica in cui si parte e si va a Frisa, all'azienda Colle Frisio e poi si pranza sul trabocco lì vicino, si snoderà una domenica al mese, tranne ottobre che in realtà ne sono due, fino ad arrivare a maggio. Sono tante le aziende coinvolte in questo discorso? Sono otto aziende vinicole che verranno visitate e alle quali si aggiungono altre aziende di tipo dolciario e aziende che producono olio.